Il colpo di testa cercato Da Miranda Perisic Sfonda la porta Ivan Perisic 2 a 1 dell'Inter Va verso l'interno Si muove di bala il velo per Higuain Il controllo a seguire Higuain Ancora Gonzalo Higuain Palla sul palo e poi in rete La doppietta del Pipita Che va 2 a 0 101 in Serie A Team È lui l'eroe di questo Milan-Juventus Fì qui Barak al limite dell'area Barak Caccia di sinistro Mette il pallone Nell'angolino Ludinete ribalta la partita Va Torreira in porta Luca Torreira 2 a 1 Samp Il capolavoro Su punizione Del noruguaiano Torna subito in vantaggio La squadra di Ferrero Donovano Dia Ancora Uno En brow Pi 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 Grazie a tutti.